signori buongiorno e bentornati sul canale del master kai io sono il master kai il vostro ospite su questo canale un paio di settimane fa abbiamo parlato del troppo di davide contro golia cioè quando il piccolo gruppo di eroi va a sconfiggere la grande e potente organizzazione malvagia in quel video abbiamo parlato di il problema della verosimiglianza del fatto che un gruppo molto piccolo e magari malenarnese sia in grado di sconfiggere un'organizzazione molto più vasta e potente e nel video di questa settimana andremo proprio ad approfondire questo evidente problema di verosimiglianza cioè andremo a vedere come sia effettivamente possibile che uno sparuto gruppo di eroi riesca a prevalere su un'organizzazione molto più grande di loro e come faremo a risolvere questo problema di verosimiglianza beh dato che l'idea per questi video è partita dalla community del master cae ho chiamato a raduno tutte le grandi menti che si radunano nel suo interno e questa settimana vi daremo le nostre risposte a questo evidente problema prima di cominciare ve lo dico chiaramente questo è il seguito del video di un paio di settimane fa se non l'avete ancora visto ve lo lascio linkato qua in alto lì il troppo è spiegato per bene questa settimana non starò a ripetermi quindi se non l'avete visto recuperatelo perché se no rimarrete confusi quando abbiamo discusso sul gruppo di questo troppo come ho detto il principale problema che molte persone hanno sottolineato era appunto quello della verosimiglianza è effettivamente difficile giustificare come un gruppo piccolo possa prevalere su uno estremamente più grosso il fatto però è che questo assunto si basa sul fatto che un gruppo di pochi eroi con mezzi molto scarsi sia effettivamente un match parallelo per un'organizzazione estremamente più vasta e sì se l'organizzazione estremamente vasta si muove in maniera perfettamente efficiente il suo vantaggio sarebbe del tutto schiacciante e in questo momento chiunque di voi abbia lavorato anche solo in un ufficio con altre quattro persone sta scuotendo la testa perché il fatto che una vasta organizzazione sia effettivamente in grado di muoversi in maniera efficiente di per sé è una promessa estremamente inverosimile quindi sì è sicuro che la vasta organizzazione per quanto estremamente potente estremamente malvagia commetta degli errori anche a ripetizione è qualcosa di intrinseco nell'essere una vasta organizzazione più un gruppo una fazione come abbiamo parlato nei mesi scorsi diventa vasto e complesso più diventa lento inefficiente e burocraticizzato e questa di per sé è già una grossa debolezza rispetto a quella di un piccolo gruppo di eroi che magari essendo formato solo da 4 o 5 persone può essere estremamente focalizzato e estremamente efficiente in tutto quello che fa nel video di questa settimana andremo proprio a vedere come questa inerzia organizzativa della vasta organizzazione può essere sfruttata a vantaggio degli eroi per creare delle condizioni in cui sia effettivamente verosimile che i pochi abbiano successo contro i molti la prima cosa che dovete tenere in considerazione soprattutto agli inizi della vostra campagna quando il gruppo degli eroi sarà i suoi minimi termini e l'organizzazione malvagia nel suo massimo splendore è che già solo per la questione della scala tra i due le proporzioni saranno talmente distanti che probabilmente per la grande organizzazione malvagia sarà effettivamente difficile identificare il gruppo degli eroi come una minaccia o anche identificarlo del tutto la grande multinazionale malvagia avrà migliaia di magazzini sparsi per il mondo con decine di migliaia di guardie di sicurezza a controllarli se il gruppo di eroi riesce a svaliggiare un paio di magazzini un portavalori e far fuori una dozzina di guardie per loro magari sarà una grande vittoria contro una forza schiacciante ma per l'organizzazione malvagia magari rientra semplicemente nella media statistica delle rapine che subiscono hanno migliaia di magazzini tutto il mondo qualcuno qualche volta verrà rapinato anche ammesso che la cosa venga effettivamente registrata magari a una riunione del consiglio di amministrazione malvagio tutto questo sarà derubricato come c'è stato un incremento del 2 per cento nelle perdite per criminalità nel settore nord ovest ammettendo che non partano solo dal presupposto che sia una fluttuazione statistica quindi del tutto insignificante e decidano di mandare qualcuno a controllare probabilmente non prenderanno la cosa sul serio dopo tutto appunto sono abituati al fatto che incidenti capitino e a meno che gli eroi non abbiano effettivamente fatto qualcosa per farsi identificare anche in caso di controllo risalire al fatto che siano stati specificatamente loro potrebbe non essere così facile e anche chi fa il controllo potrebbe non prendere particolarmente sul serio in suo incarico sapendo che tanto il problema è talmente banale che nessuno leggerà mai il suo rapporto un'organizzazione estremamente vasta ha anche un problema di verticalizzazione della catena del comando sì il signore del male che ha e a conoscenza di tutti i piani malvagi ed è quello che ha il più grande interesse a portarli a termine probabilmente è coinvolto in tutte le iniziative principali della sua organizzazione ma è inverosimile aspettarsi che si occupi personalmente della gestione al dettaglio di ogni singolo aspetto della sua gigantesca armata del terrore lo abbiamo visto nel video in cui abbiamo spiegato l'organizzazione del male ve lo lascio linkato qui in alto se dovete andarlo a recuperare ma in parole povere abbiamo visto come ogni organizzazione abbia una catena di comando che va dal grande boss finale il beat bag evil guy e poi vada a scendere attraverso vari livelli gerarchici ora ogni volta che si manifesta un problema per la grande organizzazione difficilmente verrà riportato immediatamente alla cima della catena di comando ma ogni livello di comando intermedio cercherà per prima cosa di risolverlo a livello locale man mano che le truppe del terrore avanzano per conquistare il regno dozzine di città e villaggi verranno conquistati e inevitabilmente alcuni di loro riusciranno a resistere al primo assalto e magari altri entreranno in aperta ribellione subito dopo che tra questi ci sia anche il villaggio che gli eroi hanno difeso sarà estremamente significativo per gli eroi e per gli abitanti del villaggio ma dal punto di vista del generale del terrore sarà semplicemente uno in una più vasta lista di villaggi che hanno bisogno di una seconda ondata di conquista probabilmente varrà malapena notato ammettendo anche che le azioni degli eroi comincino a causare effettivi problemi tali da essere notate alla catena di comando la prima reazione che avrà il signore della guerra locale sarà quella di cercare di capire che cosa sta succedendo dato che neanche lui probabilmente a questo punto ne ha un'idea e poi vedere di risolvere questo problema udando non le intere risorse dell'organizzazione ma le risorse che l'organizzazione ha messo a lui magari l'esercito del terrore a decine di migliaia di soldati per invadere il regno dei buoni ma l'ufficiale militare locale ha qualche centinaio di armati al suo comando e magari non necessariamente sono tra l'elite militare dell'esercito malvagio quindi sì il piccolo gruppo di eroi probabilmente non ha le risorse per affrontare l'intero esercito del male ma non è detto che non abbia le risorse per avere un testa a testa con una piccola guarnigione locale magari non in uno scontro diretto ma usando l'astuzia tattiche di guerriglia o quello che è il primo avversario che dovranno affrontare potrebbe comunque essere ampiamente dentro la loro portata le azioni dei giocatori andranno avanti e a questo punto il signore della guerra locale sarà riuscito a identificarli e capire che tipo di minaccia si sono a questo punto però non necessariamente sarà nel suo diretto interesse escalare il problema a un livello più alto dopo tutto gli eroi a quanto pare sono un problema all'interno della sua competenza quindi oltre a essere moralmente obbligato a cercare di risolverlo prima di escalare il problema lui si trova di fronte alla scelta tra essere il tizio che ha fallito a sconfiggere gli eroi e ha dovuto escalare il problema più in alto o il tizio che ha avuto successo nell'uccidere gli eroi e quindi può riportare il suo successo e possiamo dare per scontato che il profilo psicologico di uno che di mestiere ha scelto di lavorare nella vasta organizzazione malvagia probabilmente non ricade nella prima categoria tutto questo dando per scontato che gli eroi siano stati meno furbi di quello che ci si aspetta e quindi che il signore della guerra locale abbia effettivamente tutte le informazioni che gli servono potrebbe comunque essere semplicemente male informato e quindi sottovalutare la minaccia che rappresentano o essere disperato e cercare di formarli lo stesso abbiamo detto che quello che sconfiggerà gli eroi sicuramente farà una bella figura con i suoi superiori e potrebbe essere anche in lista per una promozione e a questo punto potrebbe entrare un altro fatto della vasta organizzazione ogni rango gerarchico non avrà un solo membro al suo interno ma probabilmente molteplici e soprattutto nei ranghi più bassi ci saranno vari duplicati della stessa funzione quando il signore della guerra locale scoprirà che all'interno del territorio da lui controllato ci sono dei piantagrane potrebbe decidere che la cosa più interessante da fare per lui non è quella di sconfiggere gli eroi ma cercare in qualche modo di dirottarli verso il territorio controllato dall'altro signore della guerra magari anche arrivando al punto di finanziarli aiutarli o comunque facendo loro arrivare magari delle risorse di intelligence sul territorio controllato da qualcun altro sperando che gli eroi semplicemente si spostino e vadano a dare fastidio a qualcun altro in questo modo quando dovrà fare rapporto ai suoi superiori potrà dire che nella provincia a lui controllata tutto funziona perfettamente come un orologio a differenza di quell'altro incompetente che governa la provincia a fianco e quindi è abbastanza scontato chi dei due dovrebbe venire promosso no io non so chi voi siate o dove lavoriate ma so che in questo momento state pensando a uno specifico collega gli eroi comunque andranno avanti a danneggiare l'organizzazione ed è perfettamente verosimile che riescono a fare molti più danni di quello che in teoria dovrebbero prima che effettivamente facciano abbastanza casino che il livello gerarchico più basso si veda costretto a escalare il problema a chi ha più potere e risorse di loro ma a questo punto gli eroi avranno a loro volta avuto la possibilità di accumulare potere e risorse quindi quando la questione verrà escalata non necessariamente chi la prenderà in carico sarà effettivamente più potente magari era più potente rispetto all'inizio della carriera degli eroi ma adesso potrebbero nuovamente trovarsi ad armi pari e tutta questa catena potrebbe ripetersi anche più volte prima che l'organizzazione malvagia comincia a capire che gli eroi sono effettivamente una forza letale queste sono delle idee molto generiche che potenzialmente potrebbero applicarsi a qualsiasi organizzazione ma dato che come ho detto questo video è partito da una specifica richiesta della community ho chiesto ai master al suo interno di portare anche loro qualche idea su come rendere più vulnerabile l'organizzazione malvagia e ovviamente è arrivato un bel po di roba ora non starò a leggere ogni singola proposta nel suo intero perché se no staremmo qui per delle ore quindi farò dei riassunti ma ve le lascio sullo schermo mal che vada stoppate il video se volete leggervele per bene carisma venti ha proposto quello che ha chiamato il grande piano incartato di zenz cioè che un'organizzazione sufficientemente ampia abbia al suo interno probabilmente vari sottogruppi e corrente politiche non necessariamente particolarmente cordiali tra loro e anche del caso non necessariamente informati reciprocamente di tutto quello che succede e quindi possibile che gli eroi ricevano un aiuto inaspettato dato al fatto che le varie sottofazioni all'interno dell'organizzazione siano già indipendentemente cercando di mettersi i bastoni fra le ruote o semplicemente abbiano difficoltà a comunicare tra i loro anche le informazioni più basilari e gli eroi potrebbero sfruttare questa situazione di caos a loro vantaggio giorgio gandolfi da bravo informatico sottolinea come gli eroi potrebbero sfruttare le proverbiali backdoor che vengono a formarsi in un sistema vasto e complesso sia in senso proprio che in senso figurato se lo scontro diretto con una fazione più grande potrebbe risultare letale per gli eroi per loro potrebbe essere molto più facile introdursi in nascosto tra i ranghi dell'organizzazione ma già rispacciandosi o prendendo il posto di membri poco conosciuti al suo interno e una volta avuto accesso all'organizzazione stessa contribuire a creare più caos possibile per facilitare i loro scopi lucerto la rossa fa molto pragmaticamente notare che una vasta organizzazione malvagia probabilmente ha più di un nemico e gli si oppone e di conseguenza i personaggi giocanti potrebbero mettersi in cerca di altri gruppi simili a loro con i quali formare a loro volta un'organizzazione vasta mattia si è lanciato in un'analisi particolarmente accurata ma tra le varie proposte che ha fatto spiccolano quella di puntare sulle vulnerabilità intrinseche che ogni inorganizzazione dovrebbe avere sia dal punto di vista pratico cioè andando proprio a identificare quali sono le pecche nella sua catena di comando nella sua logistica e nella sua struttura organizzativa per trovare il proverbiale anello debole della catena da andare a spezzare per far crollare l'organizzazione sia da un punto di vista metafisico ogni organizzazione si basa su dei presupposti filosofici ideologici che sia una vera e propria filosofia di vita come quella di un culto religioso o anche solo l'interesse nel guadagnare più soldi possibili in una grossa multinazionale se questi presupposti possono essere sovvertiti o messi in crisi l'intera l'organizzazione potrebbe crollare come un castello di carte man mano che i singoli membri la compongono si rendono conto che gli ideali per cui hanno firmato non corrispondono più o non sono mai corrisposti a quello che l'organizzazione sta effettivamente facendo nessuna di queste cose è mutualmente esclusiva e gli eroi potrebbero sfruttarne più di una magari in quest diverso in momenti diversi fino a quando l'organizzazione non verrà o del tutto distrutta o comunque indebolita a tal punto da diventare una minaccia molto più diestibile che possa quindi essere sconfitta con metodi più diretti indipendente da quale sia il tema o il modo in cui i vostri giocatori decisano di gestirla come avete visto c'è una lunga lista di possibili vulnerabilità che potete dare alla vostra organizzazione malvagia quando la preparate per diventare l'antagonista della campagna cercate quindi di mettergliene più di una in modo che gli eroi abbiano anche la possibile scelta su come andare ad approcciarsi al problema ovviamente questa non è una lista omnicomprensiva ci sono sicuramente un sacco di altre cose che l'organizzazione malvagia potrebbe fare in maniera così inefficiente da concedere un palese vantaggio agli eroi in questa lista sia io che gli altri gruppi abbiamo cercato di mantenerci sul più generico possibile in modo che possiate facilmente riadattare la cosa per la vostra campagna ma magari la vostra specifica organizzazione malvagia potrebbe avere qualche difetto specifico molto più facile da sfruttare per gli eroi e a questo punto come sempre passo a voi la parola scrivetemi qui sotto nei commenti qual è il difetto che avete dato la vostra organizzazione malvagia che ha permesso i vostri giocatori di vincere o nel caso siate giocatori quella volta che il master non aveva considerato un palese difetto della sua organizzazione quindi voi avete vinto molto prima di quello che era previsto come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un like e condividetelo che dovuta crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se volete ricevere le notifiche se le notifiche non vi arrivano in descrizione trovate i link al server di disco del gruppo i telegram dove metto io manualmente le notifiche dei video e dove si raduna anche la community del master cae che poi tira fuori iniziative come questi video per il resto io sono il master cae e noi ci vediamo nel prossimo video